ci sarà rimessa per la palla con Roveda, c'è Frascati libero Roveda, no la passa a Frascati proprio un alley-oop clamoroso per gli Annefal come l'Olimpia Milano lì era il quarto quarto qui è il primo ma comunque sia è un canestro bellissimo tra Roveda e gli Annefal che sicuramente si saranno godendo contemporaneamente la serie di Euroleague tra Bayern Monaco e Olimpia Milano e il Bayern Monaco l'allenatore è un italiano, l'ex allenatore di Annefal a Beroli ovvero Green Carry è l'assistente, una vecchia conoscenza della serie A2 in Nero Arancio contro la Viola anche se il Radiomercato lo dava più e più volte vicino alla Viola del Gioca Lab ovvero Adriano Vertemati